La sanità pubblica è al collasso e il messaggio lanciato dal PD di Pesaro nel sit-in di protesta svoltosi nei giorni scorsi al pronto soccorso, presenti anche le forze di maggioranza di governo della città. Insieme hanno chiesto alla regione risposte sui temi risolti che riguardano il sistema sanitario, dal nuovo ospedale alla mancata presentazione dell'atto aziendale, ma anche lo spostamento dei dipartimenti di salute mentale, la situazione del pronto soccorso e quella delle liste d'attesa. Oggi come amministrazione comunale, come sindaco ho posto nelle ultime settimane dei problemi, dei problemi che ritengo importanti, che vanno dal non utilizzo di una nuova palazzina realizzata proprio per il pronto soccorso, a un atto aziendale che ancora ad oggi non è stato condiviso con le amministrazioni, al tema della salute mentale dove ancora ad oggi non si capisce dove saranno portate queste famiglie, queste persone fragili e che quindi meritavano un'attenzione migliore, che ancora ad oggi non si sa se o interverrà o non interverrà la regione sulla parte dell'ex manicomio di loro proprietà, perché noi stiamo sistemando una parte con 15 milioni di euro e rischiamo di non avere l'abitabilità perché la regione non fa neanche quella moltizzazione minima. Non sappiamo se il centro sull'autismo andrà avanti o non andrà avanti, dove verrà realizzato. La destra sta fossando la sanità, ha detto il primo cittadino. Nell'ultimo periodo solo il direttore generale dell'asta di Pesaro e Urbino, Alberto Carelli, ha risposto alle richieste, dice Biancani. Ho ricordato che sono passati quattro anni da quando sono al governo regionale, l'amministrazione comunale deve, io come sindaco, devo in qualche modo occuparmi della salute dei cittadini, ribadisco la volontà di un confronto positivo, di un confronto costruttivo, della voglia di condividere e di dare, come dire, possibilmente anche un contributo, ma fino ad oggi non ho avuto risposta. Le uniche risposte che ho avuto appunto sono dal direttore generale, che dal mio punto di vista non ha colpe perché è una persona che è arrivata da poco, perché le scelte che si stanno facendo non dipendono da lui, ma dipendono dalle scelte precedenti. Immediata la risposta del centrodestra, c'è tanto allarmismo e poca voglia di collaborare, analizza il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Baiocchi. Sono state fatte tante cose, adesso è in fase della progettazione per il nuovo ospedale di Pesaro, sta andando avanti tutta la fase del DM77 sulle case di comunità, ospedali di comunità a Cotte, è stata fatta la riforma dell'organizzazione sanitaria, il nuovo piano sottosanitario ed ora a settimane ci saranno i nuovi atteziendali che andranno un po' a definire e delineare la nuova sanità territoriale. Quindi non possiamo in alcun modo essere accusati di lassismo, stiamo sicuramente cercando di fare il massimo possibile in questi anni, dove nel primo anno e mezzo, due anni sono stati interessati dal Covid. Quindi tanto impegno, tanta voglia e sicuramente poca collaborazione della controparte.